E... azione! Marcola, ma che succede? Ma c'è pure il coraggio di chiedermelo Pure il coraggio di chiedermelo che succede Dimmi lo che succede, eh? Che succede? Stop, 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 stop Allora, è andata male perché era mu... era... Era muscia Non era autentica, non era forte Lo schiaffo era... non schiaffetto Questo t'ha fatto male Quindi era così, capito come? Non mi fai caschiam punto Devi farlo bene, però Il ponte si rimette, dai Più rabbiosa, più... Ma che si risponde così? Il ponte si rimette Sta nella cosa creativa C'è un'altra! Lui vuole la scena! 72 A seconda! Che cosa mi vuoi spiegare, eh? Che cosa mi vuoi spiegare? Che cosa mi vuoi spiegare? Stop, aspetta, Claudia Vieni qua Carlo, vieni qua Ma che ti ho fatto male? Non mi accusi la sofferenza Ma io vorrei che tu sentissi la sofferenza che c'ho io su Alma Ma io non la leggo, non la vedo Tu puoi anche vedere la sofferenza Ma io non la vedo, non la percepisco, capisci? Fammi percepire la sofferenza Ma più male di così che va fatto Io non so quello che cazzo devo fare Va bene, vai No, 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 no E se no, no, no Vabbè, vabbè, una via di mezzo Dai, 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 dai 72 A terza Che cosa mi vuoi spiegare? Va bene? Cosa mi vuoi spiegare? Cosa? No, stop, stop, stop Hai spostato il baffo C'è baffo, l'ho spostato 72 A ventesima Azione Che cosa mi vuoi spiegare? E se mi avete aspettato questo schiaffo Ma che cosa mi vuoi spiegare? Non mi hai rotto il cazzo Hai capito? Ma che sei scemo? Ma la scena! Ma tu mi hai cercato per tutto il film Mi fai male! Mi fai male! Ti faccio male! È quello che mi hai fatto da te! Lasciami! Ma è la scena, è il personaggio!